Le detenute ovviamente quando si tratta di attività teatrale che è una forma d'arte noi la consideriamo una forma di ricerca introspettiva quindi una forma di ricerca di se stesse in un certo senso e di far emergere quel lato di se stesse che forse non hanno avuto mai la possibilità di esprimere questa è la cosa fondamentale che ci aiuta anche nel percorso trattamentale questo è un discorso che la ricerca di ritrovare lati positivi lati nascosti reconditi in fondo alla loro consapevolezza la loro coscienza la loro percezione di sé favorisce anche il nostro intervento trattamentale quindi questo è importante qualsiasi forma d'arte non solo non soltanto il teatro il cinema ma anche anche la lettura di libri anche la il semplice raccontarsi in un libro come hanno fatto recentemente le detenute attraverso attraverso codice a sbarre proprio in questo istituto e che ha avuto anche un grandissimo successo quindi è una ricerca proprio interiore introspettiva per consentire anche a noi di conoscerle meglio e di calibrare l'intervento trattamentale questo è un percorso fondamentale anche per unire le società al dentro e al fuori quindi le istituzioni che collaborano questa osmosi continua di scambio di esperienze e di conoscenze e secondo me aiuta non solo chi sta dentro ma anche chi sta fuori a capire a percepire l'altro aspetto della società quella recondita quella che si tende a rimuovere diciamo l'istituzione negata di cui parlava tanti anni fa lo psichiatra a basaglia quindi diciamo che e questa è una cosa utile non soltanto diciamo alle istituzioni ma anche agli stessi ragazzi che attraverso questo percorso acquisiscono consapevolezza delle istituzioni dell'importanza delle istituzioni ma secondo me è un percorso fondamentale nella formazione del loro essere cittadini cioè la scuola ha un valore fondamentale che è quello di prepararli a diventare cittadini modello non sempre ci si riesce ma questa è una tappa secondo me importante e loro lo percepiscono il cinema è un intervento ad adiuvandum diciamo nel nostro percorso trattamentale nel nostro nella nostra offerta di servizio trattamentale e al pari delle altre delle altre espressioni culturali e sociali e in questo credo ci sia stata una una bella risposta da parte loro tra l'altro quest'anno nell'ambito della rassegna di estate al fresco che si inserisce nella rassegna dell'estate empolese e già il secondo anno questo lo dico con orgoglio perché è nata con una mia iniziativa e con una collaborazione con il comune di Empoli quindi questo percorso ecco mi ci continua a stimolare a fare sempre meglio alla ricerca di nuovi nuovi episodi mi spiego meglio quest'anno è stata introdotta nell'ambito della rassegna empolese quella che si chiama cinema all'aperto ecco sarebbe bellissimo l'anno prossimo fare il cinema all'aperto in questa sede ciao ciao